Gansson adesso deve pensare a guarire. Gansson è un ragazzo giovane che ha avuto diversi problemi fisici, deve uscire, ha avuto due operazioni ai legamenti crociati, adesso è infortunato, deve guarire, deve dare continuità, è un talento straordinario, deve dare continuità alla sua carriera, è un ragazzo dell'89, è giovanissimo, ma deve soprattutto guarire fisicamente, giocare per tanto tempo e poi quando, se tutto questo avverrà e io auguro a Gansson che questo avvenga, sarà l'ennesimo derby fra Milan e It, poi magari arriva qualcun altro e lo acquisisce qualcun altro, è un giocatore del Santos, non disturbiamo il Santos, non disturbiamo Gansson che deve soprattutto guarire e ricominciare a giocare e poi si vedrà.